Cari amici, sono Pai. In questi giorni si è ripreso il campionato di calcio italiano, la Serie A, che è un bene per tutti gli appassionati di calcio. E così in questa settimana cerchiamo di imparare come si dice in cinese calcio, che è anche la parola chiave della nostra lezione di cinese in pillole di questa settimana. Sapete come si dice? Lasciatemi dei messaggi.